Fra l'una di notte e le sei di questa mattina è stata ripristinata l'erogazione dell'acqua in tutte le zone di Pesaro rimaste a secco a partire dal pomeriggio di ieri in seguito alla rottura della condotta idrica in uscita dal serbatoio di San Gaetano in zona Villa Fastigi. Un serbatoio collocato a pochi metri dal ponte dell'autostrada 14 che attraversa l'interquartieri. Questa mattina la cabina impianti vedeva in regolare funzione la nuova valvola di scambio dopo che ieri sera è intervenuta pure un autogru per sollevare e rimuovere il vecchio componente danneggiato del peso di oltre 60 quintali. Un pomeriggio, una sera e una notte di lavori per marche e multiservizi intervenuta con tutto il personale a disposizione per ridurre i disagi. L'acqua è mancata a macchia di leopardo in buona parte dei quartieri di Pesaro. Attorno all'una di notte si è cominciato il ripristino dell'erogazione poi completata all'alba. Ieri pomeriggio abbiamo avuto una rottura sulla condotta che esce dal principale serbatoio di Pesaro e che alimenta tutta Pesaro. Una rottura su una valvola che pesa 70 quintali in un ambiente confinato, quindi con delle difficoltà operative importanti. Siamo intervenuti con il nostro personale, con una dozzina di uomini, otto mezzi, chiamando anche una ditta specializzata per estrarre una valvola così pesante. Abbiamo cercato di rimitare per prima cosa i danni, quindi isolando le zone limitrofe, quindi assicurando acqua alle zone limitrofe e togliendo l'acqua soltanto alle zone indispensabili. In realtà, come spesso accade, una parte di Pesaro ha continuato per fortuna ad avere l'acqua fino al pomeriggio, anzi alla sera di ieri, in altre l'acqua è andata via prima. Poi gradualmente l'acqua, una volta terminato l'intervento, è stata ripristinata in tutta la città. Si è trattato di un guasto alle condotte assolutamente inusuale. Questa è una valvola vecchia, che ha oltre 40 anni, quindi una fallanza ogni tanto può capitare. Questa è la prima volta che è successa una cosa di questo tipo. Per fortuna però la macchina operativa è riuscita a intervenire tempestimamente, cercando di limitare i danni. Abbiamo col telecontrollo monitorato sempre la situazione e cercato appunto di creare il minore disagio possibile. Condotte vecchie sulle quali esiste una prospettiva da modernamento. Abbiamo fatto dei programmi di manutenzione importanti e stiamo aspettando il via del PNRR per poter dare inizio a tutta una fase di rinnovamento reti, di ottimizzazione della distribuzione dell'acqua, ma anche per la digitalizzazione, per avere sempre delle strutture più efficienti.